Il buco da 11 milioni di euro, cui deve far fronte oggi il direttore dell'Ulss 7 Pedemontana, Carlo Bramezza, apre una serie di importanti interrogativi. Ecco tre domande che intendiamo porre a Carlo Bramezza, alle istituzioni e anche a voi. È opportuno che una persona in stato di definitiva incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni per quasi 11 milioni di euro rimanga alla guida di un'azienda sanitaria pubblica che gestisce un bilancio di circa 700 milioni di euro l'anno? È opportuno che una persona che nella sua carriera ha sempre ricoperto da 21 anni posti di lavoro pubblici si faccia garante per operazioni immobiliari private per la cifra di quasi 11 milioni di euro? È opportuno che una persona che percepisce uno stipendio annuo di circa 90 mila euro abbia garantito con fideiussione 11 milioni di euro, ovvero un importo che ora potrebbe rimborsare solo lavorando 600 anni? Attendiamo risposte, i nostri microfoni sono sempre aperti per tutti. Grazie. Grazie.